Il sacro Graal si trova a Valencia, in Spagna, e supera le prove della storia della scienza. Il martire che ha protetto il Graal, Lorenzo, era uno dei diaconi di Papa Sisto II al tempo delle persecuzioni. A Lorenzo era affidata anche la Cassa della Diocesi di Roma. In particolare aspettava a Lorenzo occuparsi dell'assistenza. Gli apostoli avevano creato i primi sette diaconi appunto per questo, per sgravare se stessi dall'incombenza di dover provvedere alle vedove, agli orfani e ai bisognosi, con fondi che i primissimi cristiani mettevano in comune. Sisto II subì il martirio, poi toccò a Lorenzo. A quest'ultimo fu riservato il supplizio della graticola perché rivelasse dove aveva messo le ricchezze della chiesa. Lui indicò i poveri, per cui quelle ricchezze erano state spese. Poi gridò al carnefice che poteva anche rigirarlo, visto che da quel lato era già cotto, e rese l'anima a Dio. Lorenzo era ispanico, per questo il cattolicissimo imperatore Filippo II diede alla sua reggia la forma di un escorial, una graticola. ebbene nell'anno 258, poiché le cose si stavano mettendo male, Sisto II aveva affidato a Lorenzo alcuni preziosi oggetti da mettere al sicuro. Preziosi per la fede, si intende. Lorenzo li aveva portati nel suo paese, a Huesca. Tra questi oggetti c'era anche una coppa di agata pregiata, quella con cui il Papa diceva messa. Perché era speciale quella coppa? Perché con essa usava celebrare San Pietro, che l'aveva portata a Roma da Antiochia, e ad Antiochia l'aveva portata da Gerusalemme. Con quella coppa i suoi 22 successori celebrarono fino al tempo di Sisto II. Era la coppa che Gesù aveva usato nell'ultima cena. In essa il vino era stato trasformato nel suo sangue. Infatti, la frase con cui nella messa si procedeva alla consacrazione era da considerarsi letterale. Prese questo glorioso calice. Ma la coppa che contenne il sangue di Cristo è il Graal. Che fine fece il Graal di Huesca? Attraversò i secoli passando per varie mani, sempre portato al sicuro per sottrarlo prima ai vandali, ariani e poi ai musulmani. Nel 1399 il re d'Aragona, Martín I, lo fece porre nella cattedrale di Saragozza e impreziosire con aggiunte in oro. Nel 1424 il re Alfonso il Magnanimo lo donò alla città di Valencia, che dal 1437 lo custodisce nella sua cattedrale. Con esso i papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in visita hanno celebrato la messa. Nel XX secolo è stato sottoposto a esami da parte di un pool di studiosi, i quali hanno concordemente convenuto che si tratta effettivamente di un oggetto in uso nella Palestina del primo secolo. Perché nel Medioevo il Graal si considerava perduto e dunque leggendario? Per il semplice fatto che la Spagna era dominata dagli islamici e chi sapeva dov'era il Graal si guardava bene dall'aprire bocca.